Musica Si è svolta tra Matera e la sua collina la quarta edizione della Borsa del Turismo Rurale e dell'Esperienza, promossa annualmente e ogni volta con un tema diverso dal Gall Bradanica. Per questa edizione 2015 il tema prescelto è stato il cineturismo che ha permesso di raccontare i luoghi di Matera e della collina a una quindicina di buyer italiani e internazionali da questo punto di vista, ma anche ad una serie di registi che sono stati ospiti dell'iniziativa. Ne parleremo in vari spazi di approfondimento, parliamo di cineturismo e partiamo da quello realizzato in occasione di una tavola rotonda sul tema Svoltasi a Miglionico con una serie di interviste realizzate da Rossella Tosto. Ancora una nuova opportunità, ci si ritrova per una edizione rinnovata con una forte impronta progettuale evocata al cineturismo. La valorizzazione di questa opportunità per una platea più vasta di operatori del territorio, ma che vogliono anche scambiare le loro energie positive, le loro esperienze con buyers, operatori e gall di altri territori distanti. Sì, senz'altro. Il tema del cineturismo si incrocia con il tema più ampio del turismo rurale, che è il filone, il filo rosso che ispira un po' tutta la nostra attività progettuale e le proposte che stiamo mettendo in campo. Il cineturismo rappresenta solo una specificità. L'idea è comunque quella di valorizzare tutto il patrimonio turistico, culturale, cosiddetto minore, che è comunque diffuso nei comuni della collina materana, che si vuole integrare con la città di Matera, la città dei Sassi, in modo da rafforzare l'offerta turistica e culturale sui mercati nazionali e anche internazionali. Il ruolo del GAL, in tal senso, è sicuramente di stimolo e vuole offrire un'opportunità anche progettuale all'interno della quale gli operatori del territorio possono inserirsi attivamente. Sì, sicuramente noi svolgiamo proprio per missione istituzionale quella di animatore, promotore, facilitatore di certi processi in un contesto locale, quale è quello di questi sei comuni, che in tutto insieme rappresentano 30.000 abitanti, per cui tutto sommato un contesto agevole da gestire in questa logica. Quindi significa anche aprirsi ad una integrazione con gli altri GAL del territorio e delle regioni con termini, oltre che, come abbiamo visto oggi, con regioni anche distanti per immaginare un futuro insieme. Certo, noi già ci siamo cimentati in esperienze di scambio, di cooperazione, soprattutto con alcuni GAL del Salento. E i temi di fondo sono sempre quelli, valorizzare, promuovere il territorio a fini turistici. All'interno di questo poi promuoviamo e valorizziamo, sosteniamo poi le eccellenze enogastronomiche del territorio che si innestano appunto in una strategia più ampia di promozione e di valorizzazione di quest'area. Torna la borsa del turismo rurale e dell'esperienza. È una cornice che ospita quest'anno un momento di incontro e di confronto che pone l'accento su nuove opportunità per far crescere il territorio e con esso anche, ovviamente, le esperienze degli operatori privati. Un impegno che deve anche accompagnarsi con una responsabilità di carattere istituzionale per far sì che questo progetto possa rendersi operativo. Certo, non è la prima edizione e siamo felicissimi di ospitare nel Castello del Malconsiglio la borsa del turismo rurale. È un'occasione sicuramente per gli operatori locali e della nostra regione ma è un'occasione anche per il nostro comune perché la borsa del turismo si tiene in questo contesto che è il Castello del Malconsiglio, questo splendido maniero recuperato da pochi anni. L'impegno istituzionale, dicevi, certo è importantissimo. Matera 2019 è sempre più vicina. Per noi rappresenta una tappa importante da cui ripartire per dare un'opportunità in più ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, alla nostra economia attraverso il turismo. Da qui il nostro impegno a fare rete, a creare, a fare rete, a fare in modo che l'appuntamento del 2019 sia un buon inizio per questa opportunità. Per fare rete dobbiamo trovare tutti gli strumenti possibili affinché il nostro patrimonio storico, artistico e culturale possa essere messo in relazione in tutta la nostra regione in modo da poter accogliere nel modo migliore chi viene a farci visite, a guardare, ad ammirare i nostri tesori. Questo significa quindi anche uno sforzo coordinato sul piano della comunicazione, della promozione, della accessibilità e gli strumenti che consentono oggi un turismo responsabile ed accessibile sono sicuramente le nuove frontiere della programmazione europea ma credo anche delle esperienze che si vanno poi prospettando su tutti quanti i comuni che si aprono ad un'esperienza di confronto internazionale. Certo, uno sforzo organizzativo e di coordinazione e di coordinamento enorme che siamo riusciti a fare bene negli anni passati con il Galbradani che continueremo a farlo benissimo con il Galbradani che fra l'altro ospitiamo come struttura proprio in questo castello proprio per l'importanza che diamo a questo settore ma ci vuole maggior impegno ancora da parte delle istituzioni maggiore fantasia volendo e maggior impegno appunto perché insieme dobbiamo riuscire a costruire questa rete l'abbiamo fatto negli anni passati, abbiamo fatto un bel tentativo con i Piot un tentativo riuscito in parte, ancora da sviluppare, ancora da implementare certamente ma un primo sforzo abbiamo iniziato a farlo e devo dire uno sforzo importante è stato anche quello del conseguimento dell'obiettivo di Matera 2019 perché è stata forse la prima vera volta in cui i comuni si sono cominciati a cimentare con il tema turismo anche noi che non siamo i comuni di Matera insieme agli altri comuni della nostra provincia, della nostra regione guardando Matera come un punto di riferimento ma sforzandoci, come stiamo facendo, di capire il modo in cui mettere in relazione tutte le nostre energie Il cineturismo offre significative opportunità questo è altresì vero per un territorio che si apre ad esperienze di accoglienza nazionali ed internazionali ma che sta molto crescendo su questo filone come si disegnano queste opportunità insieme? Noi abbiamo un patrimonio ormai da definire storico nel più recente passato The Passion ha sviluppato delle presenze internazionali significative che hanno messo Matera e il suo territorio su uno scacchiere di cineturismo che è studiato in tutto il mondo con numeri straordinariamente interessanti ritengo che con Benurre è già dispiegata la stessa questione adesso dobbiamo passare a una fase operativa e di costruzione non più solo subire il processo positivissimo ma andarlo a costruire e a farlo diventare sistema Questo significa anche in qualche modo disegnare dei criteri di scelta più selettivi? No, significa proprio indirizzare flussi di turismo attraverso il sentiment del cinema e dell'audiovisivo puntando su opere che possono sviluppare una passione per i luoghi e quindi spingerli a frequentarli e poi significarli molto con nuove tecnologie ma anche con tecniche molto consolidate che permettono che quando arrivi in quel luogo ritrovi quello che stai cercando Call ricorsive sul piano del sostegno internazionale alle produzioni dell'audiovisivo con il programma Media e Creative Europe attestano il fatto che ci sia una domanda ma anche una certa tipologia di offerta Oggi queste opportunità devono essere anche maggiormente rese fruibili, conosciute rese operative anche per gli operatori locali? Mi permetto di essere critico su Creative Europe molto studiato ho partecipato all'avvio del processo i finanziamenti non sono così enormi e i processi sono enormemente difficili e complicati perché c'è bisogno di partnership internazionali che possano presentare progetti che poi arrivino alla fine è complicato però ci stiamo provando proprio in queste ore con Basilicata Sviluppo stiamo presentando un progetto che vede la partecipazione della nostra Film Commission insieme a quella di Navarra e di una zona dell'Ungheria e che guarda delle missioni soprattutto negli Stati Uniti e nel Canada noi ci proviamo però bisogna stare molto con i piedi per terra Un messaggio invece per quanto attiene l'importanza di queste esperienze di confronto che comunque sul territorio si stanno gemmando e anche ricorsivamente quella del Galbradani che è un'area che da tempo anche per la vicinanza con Matera sta cercando di promuovere un turismo rurale e dell'esperienza diffuso sul territorio ci sono delle premialità in tal senso da riconoscere? Sicuramente al presidente del Gal che ha questa intuizione di stare su una linea molto significativa e apprezzo anche il fatto perché noi non possiamo fare tutto noi istituzioni per esempio il fatto che sia stata affidata a un'associazione del territorio la tecnicalità, gli inviti ci aiuta molto Un programma ricco diverse occasioni di incontro e di confronto una regia affidata al Galbradanica che però decide di aprirsi non solo ai territori vicini ma anche ad altre esperienze comparative del nord, del centro e del sud Italia E' vero quest'anno con la quarta edizione della borsa del turismo rurale e dell'esperienza cerchiamo di fare un salto di qualità perché nelle precedenti manifestazioni abbiamo cercato e sviluppato molto il tema sulla cultura che ha contribuito a far conoscere molto bene il nostro territorio dal punto di vista storico artistico, culturale ambientale ed enogastronomico quest'anno abbiamo puntato stiamo puntando sul cineturismo perché ci rendiamo conto che il nostro territorio che ha un paesaggio favoloso si presta molto bene ai film che girano agli sceneggiati televisivi e sappiamo che molta gente nel mondo quindi si parla di centinaia di milioni di turisti si muovono per conoscere i luoghi dove girano questi film o sceneggiati televisivi e per questo abbiamo invitato l'inventore del cineturismo il dottor Messina che ho avuto il piacere di conoscere alla BIT di Milano soddisfatti anche per quanto concerne l'adesione da un punto di vista di buyers presenti che poi effettueranno un'esperienza sul territorio con un mini tour organizzato proprio per conoscere da vicino sulla base del turismo esperienziale la poesia e le sensazioni che può restituire il territorio stesso effettivamente noi diamo molta importanza ai buyer loro costituiscono la parte più importante della filiera turistica perché con le loro organizzazioni muovono migliaia e migliaia di turisti visitando il nostro territorio si rendono conto personalmente di ciò che offre e in questa manifestazione di quest'anno avranno modo di visitare Irsina il centro storico di Irsina i bottini di Irsina visiteranno Monte Scaglioso la Bazzia il centro storico di Monte Scaglioso così la sala multimediale allestita dove viene rappresentata la manifestazione riguardante la conciura dei baroni noi abbiamo notato come dicevo prima che i turisti vogliono conoscere la storia del territorio che visitano e noi abbiamo realizzato con molti progetti tante iniziative per portare a conoscenza ciò che il territorio offre e quindi siamo convinti che il turismo aumenterà da queste parti anche perché si sta già creando la cultura dell'accoglienza oggi si parla di cineturismo e ne parliamo proprio con lei che è l'ideatore del neologismo cineturismo questo vuol dire che quando inventò il termine cineturismo qualcosa stava cambiando qualcosa è cambiato ma qualcosa si è anche consolidato sì devo dire che sono passati 15 anni da quando è partito il progetto cinema e territorio di cui fanno parte il cineturismo con la sua borsa e l'Ischia Film Festival in realtà il cineturismo esistiva già in alcune parti del mondo era già utilizzato come leva sul territorio sia la parte commerciale sia la parte turistica io mi sono permesso in Italia e in Europa di portare all'attenzione questo fenomeno in considerazione del fatto che l'Italia è stato un paese che negli ultimi 50 anni è stato utilizzato dal cinema internazionale pertanto aveva tutte le potenzialità potenzialità che devo dire ancora oggi a distanza di 15 anni faticano a decollare perché purtroppo non riescono a capire il processo evolutivo che bisogna fare per far sì che il cineturismo funzioni pertanto noi siamo sempre in prima linea a dimostrare con dati alla mano quanto è efficace questa nuova leva economica altrove e quanto bisogna ancora fare in Italia affinché decolli del tutto cosa ci vorrebbe secondo lei un maggior supporto da parte dei privati o un maggior supporto da parte delle istituzioni ogni interazione tra i due? Beh io credo forse l'interazione in primis io sono un privato pertanto io nasco come imprenditore voglio dire sotto questo aspetto c'è stato un dialogo con quelle che sono state le amministrazioni con quelli che sono un po' più sensibili è ovvio ed è chiaro che il patrimonio comunque appartiene principalmente a quello che può essere lo Stato italiano sia sotto l'aspetto di film commission che comunque sono regionali istituzionali sia sotto l'aspetto di patrimonio pertanto se non c'è questa interazione così come per esempio l'Odo e vedo questa interazione di pubblico e privato tra i vari Gall che sono delle ottime iniziative magari i Gall possono essere proprio per l'appunto un punto di partenza per far fronte a questa esigenza e risolvere le problematiche Senta immaginiamo che lei abbia un occhio molto sviluppato che guarda il paesaggio e ne legge le potenzialità anche in un'ottica di sviluppo cinematografico il suo occhio che Basilicata vede? Beh il mio occhio sin dall'inizio ha visto la Basilicata basti pensare che ho fatto leva proprio su Matera con il film Passion nascendo proprio in quell'anno io mi sono permesso nel 2003 di fare qualcosa al di fuori degli schemi io premiai un film che usciva dopo sei mesi tant'è vero che la stampa nazionale era un po' sconvolta di questa cosa che dice normalmente un film viene premiato dopo noi infatti non premiavamo la parte artistica del film ma proprio la parte promozionale perché eravamo convinti che il film avesse portato una grande luce di attenzione su Matera e di fatti così è stato pertanto voglio dire Matera è una delle particolari città e luoghi d'Italia di cui si può fare leva cioè voglio dire ha un patrimonio non per niente il patrimonio dell'UNESCO ma ha tutte le potenzialità insomma per il mezzogiorno per il sud ma proprio per far leva su quello che può essere questo segmento altri pure ce l'hanno per l'amor del cielo però dico che comunque in primis sono un po' affezionato a Matera perché mi ha aiutato un po' il mio percorso iniziale che il percorso il percorso la sigla eth Grazie a tutti.